Sopravviviamo 24 ore nella classe del tuo colore! Siamo pronti! Che ci fate voi qua? Ciao Stefano! Dai, dai più! Ma che mi piace! Prendi questo! Questa! Ah! Questa cuora è uno spallo Forse andiamo fuori che c'è l'intervallo Ragazzi, prima che finisce la ricreazione torna a San Giovanni Andiamo al McDonald's dopo scuola? Sì! Mi sta un po' venire a fame! Chi viene da San Giovanni? Io! Posso venire anche io? Beh... Che dici? Facciamo venire? Ma assolutamente no! Mi sto troppo a antipatia e ci provava troppo con te! Posso venire allora? Posso venire? Senti Anna, questa è l'ultima volta, ok? Se no non ti faccio più venire Non ci devi provare né con Marco e il ragazzo di Sara Non ti devi mettere a piangere per nessun motivo al mondo Se no, da dove come sei venuta Ti rimando via! Hai capito? Ma perché mi devi trattare così? Ecco, allora non hai capito più a me allora Vabbè, però se vuoi venire con noi Ho una soluzione Il ragazzo di Sara e i ragazzi non ti vogliono più bene Vabbè, Anna Non te lo toglie perché così sei perfetta Ma voi siete sicuri che io così posso venire? Almeno voglio dire quanto ti pare le lacrime ti si asciugano Ragazzi! Sono quasi le dieci Quanto vi rivedrà la regrazione? Andiamo in classe Stiamo Non ti lascia lì Deve essere proprio quella classe che ci trova Lascio stare il mio Robby Chiudilo fuori Questo pidello proprio Dobbiamo assolutamente andare da loro Quella classe diventerà la classe di Daniel e Robby Adesso basta Se la vedranno con noi Sono qui dentro Eccomi finalmente Daniel e Robby Ma che cosa ci fate qua? Ben semplice Ci serviva una scuola E quindi siamo venuti in questa Ma questa è la nostra scuola? Sì, ma noi facciamo un sacco di video bellissimi E ci serve una scuola Quindi siccome la vostra è molto bella Prenderemo la vostra Scusate, noi abbiamo fatto anche una canzone con questa scuola Quindi No, non la potete prendere Non può essere in questa scuola Daniel e Robby Questa scuola è Stefano e Hilary In realtà Robby Non vi ho scritto da nessuna parte Che questa scuola è di Stefano e Hilary Esatto Non c'è scritto da nessuna parte Però se avessi una penna Potrei scrivere Daniel e Robby Chi sarà il mio piacere? Che l'ascolti bella Questa è la nostra scuola Andate via da qua Aspetta, mi arrivo io con lui Oh ma che... Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 Al Romix a Roma Per il film ago E del nostro fumetto Mi raccomando Vi aspettiamo in tanti Sì Cosa vorresti fare quindi? Questa è la nostra scuola Ah sì, da quando? Da sempre No, da prima, adesso è la nostra scuola, non l'hai capito? Sì Ma non è la nostra scuola Ma non è la nostra scuola Ma non è la nostra scuola Faremo delle sfide E chi vincerà si prenderà la scuola Non possiamo che accettare Noi facciamo sempre delle challenge Quindi non ho paura di perdere Lo so, voi siete bravi a fare le challenge Ragazzi, siete sicuri che volete sfidarli? Non abbiamo paura Tranquilla Sopravviviamo 24 ore nella classe del tuo colore Ci saranno delle sfide E chi vincerà conquisterà la scuola Siete pronti a sfidarvi? Siamo pronti Siamo prontissime Ma io ho paura Siamo pronte E se volete vedere chi vincerà la scuola Iscrivetevi al canale in questo momento E scrivete nei commenti secondo voi chi vincerà questa sfida Siamo pronti Che ci fate voi qua? Ciao Stefano Siamo venuti a prendere questa scuola Tanto vinceremo noi Ah, non potete superare la riva Sono bellennate Ma non l'ho superata Che ne dici? Facciamo una bella scommessa Se vinciamo noi esco io con il tuo ragazzo Non penso proprio Devi passare prima sul mio corpo Beh, non penso poi sarà così tanto difficile Io invece penso proprio di sì Mi sono fatta troppo male alla gamba No, ma ce la fai continuare? No che non ce la faccio Ma che non vedi? Sono caduta per terra Tu ce la fai senza di me Certo, non posso dargli la vinta a loro No, assolutamente Devi vincere per forza No, aspetta Non posso superare la riva Se no vengo eliminata anche io Eh, faccio da sola Dai, vai Guarda Non c'è bisogno di vincere la challenge A quanto pare si eliminano da soli Meno uno La prima sfida è Indovina la canzone Chi di voi Indovinerà Più canzoni Nel minor tempo possibile Vincerà questa prima sfida 3, 2, 1 Canzone Ho capito qual è E' una cosa Stoppa la musica Ma la sappiamo Non la sappiamo noi Dani, ho capito Fidati di me Roby, si può sapere perché hai premuto il pulsante? La sai davvero? Dani, fidati Io conosco tutte quante le canzoni del mondo a memoria Siamo stati voi da spingere il primo pulsante Sì Ti rendi conto? Stiamo per guadagnare il primo punto Guadagni il punto se sai la canzone Che sicuramente saprai Sì, sì, sì È ovvio Qual è la canzone? Eh We wish you a merry christmas 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 Meno happy Ho vinto No Ma non è questa Come no? Ma io lo so, lo so, lo so, lo so Sapete? Non lo so Io non lo so Il titolo Meno mi sono neanche prenotato È la che mi hai fatto venire a fare qua Ci sei venuta solo Vai Ma dobbiamo andare solo Noi E ti do Tu stai colto Tu stai colto Ehi, qual è? Sì Un punto per noi Sì Vai Cinque giornali No Bevino Ricamerò Tra poco in questo video Eccomi anche infortunata Sono tornata per vincere questa sfida No, è tornata Non ci voleva questa Ma io volevo uscire con il suo ragazzo Seconda canzone Ci sono giorni che stanno volare Con un amico mi attimo è spettacolare Molti ricordi non potrai scordare Perché da soli questo viaggio non è uguale Oh 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 Hai fatto davvero bene a prendere il pulsante Perché io l'ho capita Beh certo, se non la capivi tu Robby Ma diciamo insieme? Sì sì Oddio tre Uno Due Tre Cipi cioppia Eh? E cipi ciappa Cipi ciappa Ciuppi ciuppi Cipi ciuppi ciuppi No Robby Questa è la nostra canzone Amicizia di Daniel Robby Ah sì stavo scherzando Bene Avete detto il titolo della canzone Ma a metà Quindi non credo che vale Le regole dicono che insieme Tu devi dire lo stesso titolo Lui ha detto cipi ciappa E tu hai detto amicizia Quindi No No Allora la canzone è la nostra Il titolo completo originale È Amicizia cipi ciappa Ma che cosa stai dicendo? La verità è che ho premuto io il pulsante E io ho risposto correttamente Quindi il punto ce lo meritiamo Sì è vero Anzi ce lo prendiamo Il punto Sì Non vale Non vale Era amicizia No cipi ciappa amicizia Sì è vero Tagliate il punto Non vale Non vale Fate come me pare Tanti non la sapevo Non vale Non vale Non vale Non vale Silenzio Decido io Ok Un punto a Daniel Robby Sì No 3 2 1 Canzone Voi avete spinto per prima Questa scuola Corretta è questa scuola Un altro punto Ballatela insieme a noi Questa scuola Chi non studia Chi si innamora Questa scuola È uno sballo Forse andiamo fuori Che c'è l'intervallo Prima challenge vinta Dalla squadra azzurra Di certo che rispondo alle domande Correttamente Non mi sembra proprio Perché non hai risposto Neanche una Nella prima challenge Io almeno ci ho provato Almeno non faccio i figuracci Almeno io Ho una compagna Tu invece sei totalmente da solo Ormai rimarrai da solo Per sempre E invece no Non è da solo Guardami un po' Eccomi anche infortunata Sono tornata Per vincere questa sfida No è tornata Non ci voleva questa Eh vabbè ma puoi venire Ma io volevo uscire con il suo ragazzo Però non piangio sempre Ma che ti piangi Seconda sfida Che cos'è questo suono? Non lo so Robby Che sta succedendo? Dai io paura Beh non spaventatevi troppo Questo suono che sentite È l'imprevisto Adesso Due giocatori di voi Cambieranno colore E a deciderlo Sarà la sorte Speriamo che vado a squadra con Marco Ma non sperare troppo Fidati che non ci vai Vabbè speriamo di no 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 Ilari ti sembra il momento per dormire? Che è successo? Ci stanno cambiando squadri Ah Ero verso con te Eh quello pure io Ma non voglio cambiare il mio colore Mi piace il blu Non c'è questo blu Bene La sorte ha deciso Che sarete proprio voi Le squadre A cambiare il colore di maglia Quindi voi passarete azzurri E azzurri passeranno alla ragione Adesso decidete Di voi Chi vuole andare di qua Chi vuole andare là Forza Io no 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 Ma stai dicendo che io e Danny Dovremmo separarci? Sì sto dicendo proprio questo Eh no Non possiamo Guarda C'è scritto qui Anche sul nostro nuovo libro Danny e Robby E caccia di guai Non sono Danny O solo Robby Danny e Robby Deglielo Esatto Noi due Non ci possiamo separare E se non lo hai letto Puoi anche ordinartelo Da solo su Amazon O in qualsiasi libreria Ma sta scritto Danny e Robby Io non mi separo Ah ma questa è la coppia Non puoi E' un altro 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 No no Nicola per ordine Vai Tra poco In questo video Guarda Nicola Ci sto provando con Robby Senti quanto Quanto sei muscoloso Oh sì Uffa Io volevo stare in squadra con Robby E io con Nicola Senti Metti un po' più là Il gioco per favore Ma Ma io sono già al bordo del banco E anch'io vedi Senti Facciamo una cosa Ah è così brava Dividi a metà il banco Così tu avrai la tua parte E io la mia Fatti più là Fatti più là E tu fatti tu più là Fatti tu più là Oh Senti Robby Anche se stiamo in squadra insieme Non mi dimentico Che tu mi vuoi rubare la mia scuola Danny spalanca gli occhi Meravigliata Improvvisando una piruetta Per la felicità Grazie Nicole Hilary Aspetta un secondo Che Dobbiamo fermarci Guarda Nicole Ci sta provando con Robby Vabbè tanto Nicole si era lasciata Ma si rifinanza no? Si era lasciata con Alessio No 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 Questa cosa non va bene Robby è il mio fidanzato Non può fidanzarsi con Nicole Vabbè tanto Lei si è lasciata Quindi Si deve rifinanza Dai Nicole Fianzati con Robby Così facciamo Nostra bella storietta Dai amore Dai su su No 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 Cosa sta succedendo lì? Ehi 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 Calmatevi La sfida ancora non è iniziata Vabbè Questa almeno puoi vincerla Guarda che imbicipite Non come quello di Robby Eh speriamo Dai Anna però aiutami questa volta Va bene ci proverò Ma ho paura E' che se perdiamo Guardiamo tutte e due qua Mi rifaccio male Dani anche se stiamo in squadre diverse Noi dobbiamo vincere questa challenge Gira voglio vincere Assolutamente si Concentrazione Cazzo è un trucchetto Ieri ho mangiato il mcdonald Funghetti Secondo voi Chi vincerà questa sfida Iscrivetevi al canale per scoprirlo Oh no 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 Ieri ma non avevi mangiato il mcdonald E' infatti quella rossa stessa Eh Mi sa Solo che sei diventata Più leggera Non più pesante Dai gira dai dai su Che devi vincere Oh no Concentrazione Ehm Via Dai Robby Dai Robby Dai Robby Dai Robby Chi piange Chi sempre piange Dai Robby ma non eri muscoloso Non mi sembra Ma non ti sei accorta che stavo tirando solo con la sinistra? Che usa anche l'altra No Ok 3 Robby 2 1 Oh 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 Si Oh no Oh no Oh no 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 Ieri si dice squadra E tu sei nel blu Quindi abbiamo perso Ma mamma ma hai il farangiore? No io non ci posso credere dovevi vincere Abbiamo vinto Ma non lo vedi siamo nel blu ma che abbiamo vinto Vabbè E piange Sì 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 Abbiamo vinto Sì Vi abbiamo battuti Ehm Nicole Potresti saltare meno addosso il mio fidanzato Grazie Siamo nella stessa squadra Esatto Ora siamo noi una squadra Terza e ultima sfida Ora si deciderà chi sarà il vincitore a conquistare la classe Come vedete sotto di voi avete delle piattaforme rosse Uno di voi sarà sopra la piattaforma con un piede solo E gli altri avversari dovranno cercare di farvi cadere dalla piattaforma rossa Vincerà solo uno quello che rimarrà sopra la piattaforma rossa e non cadrà Dani come funziona? Eh devi far uscire la testa Ecco qui Ora siamo pronte Un componente della vostra squadra come vedete ha una pistola piena d'acqua Vincerà chi riuscirà a far cadere l'avversario dalla piattaforma rossa E solo uno rimarrà in piedi E il vincitore vincerà la classe Prendi questo Prendi questo E questo E quest'altro E questo Uno eliminato Ti giuro io non ci posso proprio chiedere sei inutile Dai ci l'ho messa tutta ma ha sparato dentro io Ma stai zitto Prendi questo Prendi questo Prendi questo Prendi questo Prendi questo Prendi questo No Magari abbiamo messo Magari abbiamo messo Prendi questo Sto piacendo Abbiamo messo solamente per colpa tua Scusami Sì hai per colpa tua Beh sono rimaste solo due squadre Azzurri contro arancioni Chi cadrà perderà E l'altra vincerà la challenge Siete pronti? Aspetta devo dire una cosa a Dani No Ilari cosa mi devi dire? Dani che ne dici se chiamiamo gli altri E facciamo tutti contro Nicole Spariamo tutti a Nicole così lei perderà Oh sì saremo la maggioranza e vinceremo sicuramente Ben detto Ilari sei geniale Dai è stata una buona idea questa Sì sì Siete pronti? Ma non è giusto tutti contro due In realtà non voglio essere l'unico che non spara a te Quindi penso che anche io inizio a spararti Però andando con questa Con questa 3 2 1 Via Funghetti questa è la mia fine Iscrivetevi al canale e non mi lasciate da sola Ilari tu hai vinto una sfida con la squadra blu Una sfida con la squadra arancione Quindi sei la vincitrice l'avete vinto Che sai? È un momento però anche io ho vinto diverse sfide Quindi posso avere questa scuola? Beh no nel senso hai vinto la sfida Non è che hai vinto la scuola Cioè era la sfida Dani Dani Senti questa scuola sono troppo pazzi Secondo me è meglio lasciarla stare a Stefano e Ilari e tutti i loro amici Va bene è stato divertente però ora abbiamo da fare Ciao ciao Ilari E va bene quindi grazie Ciao niente mi avete praticata E va bene dai erano sera per fare la sfida E beh te lo meritovi perché tu ci hai provato con il mio fidanzato Vieni sulato In questo video abbiamo un'assistente speciale Momma Come avete visto il cibo c'è eccolo qua in abbondanza come avete visto c'è stata questa novità vi abbiamo fatto portare dei zaini colorati l'avete portati cosa pensavate ragazzi che questi zaini colorati servissero per fare una festa sì infatti sono molto belli colorati per una festa lo ribadisco e stavolta voglio che state attenti che ascoltate bene abbiamo parlato con i vostri genitori e loro sono d'accordo a farvi stare dentro la scuola per 24 ore ma io ragazzi oggi mi devo vedere la partita io devo uscire con le mie amiche al centro commerciale devo andare a fare shopping io devo andare al parco a bullizzare gli altri io mi devo fare le unghie non posso stare qua 24 ore io devo andare a pranzo d'amizio ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 al romis a roma per il firma dove del nostro commetto mi raccomando vi aspettiamo in tanti siiii 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 il bene per me è che si mangiava per 24 ore qua a scuola almeno a casa c'è la mortadella oggi la mortadella non la mangerai o forse si o forse no o forse si o forse no o forse si o forse no o forse si no o forse no o forse no o forse no o forse no ok ed ora per questo evento speciale abbiamo un assistente speciale ma dai siiii che devo fare tra poco in questo video ragazzi è più di nuova che stiamo qui dentro non ce la facciamo più io non mi muovo quel corpo mangia mangia tutto finalmente sono sei ore che non mangiavo che stregoneria è questa io ho stregoneria devo cantare male papà stefano quelle ma quale canzone papà stefano ma lei deve venire qui per presentare un evento speciale qui in classe ne era stata detta questa cosa non sapevo niente ma chi mi era stata non sapeva nulla va bene adesso glielo spiegheremo noi glielo spiegherò a san giovanni non si preoccupi mi chiedevate cosa avreste mangiato per 24 ore ebbene ecco qua come avete visto il cibo c'è eccolo qua in abbondanza ma dovrete guadagnarvelo ora faremo delle challenge ma c'è un particolare chi vincerà la challenge potrà mangiare il cibo ma soltanto quello del colore del proprio zaino nooo perché ci hanno fatto portare i zaino durati io e la preside abbiamo studiato queste challenge affinché alla fine delle prove colui che non supererà neanche una prova sarà bocciato bocciato no io non voglio venire bocciato al massimo vieni bocciato a 2 neanche io non riesco a fare una cosa del genere non può essere san giovanni e ovviamente ragazzi chi riuscirà a superare tutte le prove potrà uscire prima delle 24 ore altrimenti fino all'ultimo qui ha capito san giovanni ha capito ha capito metta il panino lì per cortesia prima challenge entrerete tutti quanti dentro una stanza della paura in quella stanza potrà esserci di tutto animali mostri spiriti qualsiasi cosa e chi di voi resisterà più tempo in quella stanza del terrore e della paura vincerà il cibo del colore del suo zaino e se vuole potrà anche andare a casa poi se vuole rimane qua vabbè comunque iniziamo la sfida ti stiamo osservando mi sento a svegliere aiuto ma è chiuso è chiuso e che faccio? lasciate se rimane bloccati qua dentro sicuramente cases voi vedevi fuori me lo avvenete che è nella nostra classe aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaah aaaaaaaaaaaa cos'è regami che mi fa matri lakap Pale bumachi sceg fingeransi!! dobbiamo trovare un modo per mandare vita a questa stanza ilทำore eliminiamo la logica sì sa come fare No, basta, voglio andare via, guarda che schifo Non ce la faccio più Guarda, 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 guarda È assurdo questa cosa, non siamo dentro una scuola, questi sono tutti pazzi Io ho paurissima, voglio andare a casa E adesso se ci attacca un ragno, un ragno gigante, eseguire uno scheletro? Ma ti pare che qui dentro ci sono dei scheletri giganti? Vabbè, dai, ma no, ma alla fine ci sono solamente un po' di ragni, un po' di cose Ragazzi, ma non saranno mica così matti da fare entrare addirittura degli scheletri? Ragazzi, è più di inora che stiamo qui dentro, non ce la facciamo più Io non mi muovo, il capo è ancora Via, 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 via Che ce ne frega se portiamo? Non ce la facciamo, via, via Noi andiamo via Basta, dai Andiamo alla prossima challenge, no, ciao Ma come fa a dormire questo qua? Io ho una paura Non lo so, lui sta troppo tranquillo Un topo! No! Lasciagli a via, mamma! Ma vuoi morire da via? Tiziano, assento il vincitore di questa prima challenge Non sarei bocciato, sei stato coraggiosissimo Sei saputo superare tutte le prove Non avevo avuto copre dello scheletro Dei ragni, dei topi, di nulla Ma com'hai fatto? Ma io stavo solo dormendo E oltre al premio di non essere bocciato Hai vinto il cibo del polore del tuo dino Wow, erano quattro ore che non mangiare Puoi mangiare? Buona Non mangiare anche il mandarino Seconda challenge, siete pronti? No No Beh, la seconda challenge è molto semplice Dovrete fare solamente il balletto della nostra canzone Ah, ciaale! Ci vuole E invece no, perché ci sarà una difficoltà Dovrete ballarlo su una gamba sola E chi non cadrà, vincerà Siete pronti? Pronti! Sì, oggi! Que, 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 questa scuola Non vi preoccupate Io la presi Deteniamo tutti i punti delle challenge State, state, denue! È uno sbaglio Vinco io Io non vinco io Io vincolo E c'è l'intervallo Questa challenge non vale I presentatori mi hanno spinto Presentatore, presentatore Mi dispiace Ma sei stata eliminata Ma non è giusto Que, 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 questa scuola Chi non studia Chi si innamora Questa scuola È uno sbaglio Sara, hai vinto la seconda challenge Quindi non sarei bocciata E puoi mangiare il cibo del colore del tuo zaino È una cosa buonissima Sei contenta? Contentissima Quanto Tantissima Quanto Tantissimissimo Tantissimo Tantissimo Oh Hai vinto una bella zucchina Verde come la tua feppa Sei contenta? Così sono tante ore che non mangi Puoi mangiare Ma a me non piacciono le verdure Eh, che volevi? La torta? Ma no, non è giusto però Lei ci ha vinto a tutte quante Ha barato È vero? No Sara Nicole Vedo tutto io Guardo tutto Osservo tutto E se voi barate Vi boccio Facciamo i conti a casa Com'era il tuo premio? Eh, eh Vabbè, ho vinto Io vado, eh Sì, puoi andare Grazie Terza challenge La terza sfida è schifosissima Sarete bendati Vincerà chi troverà all'interno della scatola Il nostro fumetto Ma ci sono un po' di difficoltà Come vedete in questa scatola C'è di tutto C'è un topo C'è della verdura Ma c'è soprattutto Un pannolino Con la cacca E quel pannolino squarco di cacca La sapete di chi è? Di San Giovanni Di quando era piccolo Siete pronti? No, che schifo Che cosa La cacca di San Giovanni Quando era piccolo Io non lo faccio Io mi elimino Ok? Ciao Vabbè Ma la cacca di quando era piccolo Adesso nemmeno puzza più Ormai puzza pochissimo 3 2 1 Via Ma la cacca non è Ma di san Giovanni E se mangia Che sentiva Cosa è? Oddio Si rompia? Ma cosa sarà? Oddio 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 Ma che scherzo? Ma... cosa? Che scherzo! Basta! Ma occupa di lavare le mani! Ma che se la frega se l'ho eliminata! Voglio fare la prossima challenge! Stop! Basta! Ma che cos'è? Che puzza! No! Inarrivole! Non ce l'è in faccia, ragazzi! Dov'è questo cometo? Ma che cos'è? Che schifo! Ammattami! L'ho trovato! L'ho trovato! Lucrezia, l'ho trovato! No, non è possibile! No, è barato! Non l'ho barato! Giuro, non l'ho barato! Sì, perché adesso stai di qua, adesso stai di là! A me non mi frega, io sono la bulla! Sia Roma ha vinto il nostro cometo! Stai felice? Sì, sono contentissima! Finalmente ce l'ho! Funghetti, e voi avete già letto il nostro fumetto? Se ancora non l'avete fatto, potete ordinarlo nel link in descrizione! All'interno c'è una storia super divertente con tutti i personaggi dei nostri video! Quindi, se volete passare del tempo insieme a noi, andate nel link in descrizione ed ordinatelo! Io sono contenta del fumetto, però il premio era il cibo! Allora, grazie Roma, di che colore era il tuo zaino? Rosa! Rosa, e quale è il tuo cibo preferito? La mortadella! E di che colore era la mortadella? Rosa! Hai detto parire con la mortadella? Eccolo qua, un parietto piccolo piccolo mortadella! Buon appetito, sei la vincitrice di questa challenge! Mancia, mancia, mancia tutto! E va! Ok, dai! Finalmente sono sei ore che non mangiavo! Oh, bella l'ora di mangiare! Quanta challenge! Avrete un minuto di tempo! Chi mangia più piatti vince! 3, 2, 1, ora! Vai! Vai! Ma sei da! Bye bye! Vai, vai, dai! Procurezza, vai! Scopermi! Ma li faccio, ma li faccio, ma li faccio, ma li faccio! Dai, vieni, vai, li faccio, ma li faccio, ma li faccio! Dai, vieni, vai, vieni, veloci, veloci! Pensa che staccia di cuore, non è! Dai, pensa! Oh, vinci, devi vincere! Basta! Ahhhhh! Ahhhhh! Oh god, dio! Oh, dio! il dito è arrivato il momento di scoprire il vincitore chi ha mangiato più fragole e più banale con 14 fragole e 12 banale per un totale di 26 punti vince quinta ed ultima sfida sarà quella a decidere chi sarà la bocciata di questa classe chi finisce per prima la torta vince 321 ragazzi ma ti puoi fare? vabbè nel caso do l'assaggio Funghetti le devo far bocciare l'uso 2 così io non ce l'ho e anche Nicole Funghetti se volete che gli sbatto la faccia sopra la torta e iscrivetevi al canale in questo momento vi siete iscritti? se non vi iscrivete non posso farlo ok vi siete iscritti vado ho vinto ho vinto ragazzi ho vinto sono più forte io ti ho visto hai parato scusa 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 no davvero e lui non fa più cioè per pincere così Nicole era un po' felice dai ti prego perdonami Funghetti non so se San Giovanni mi boccerà a me o a loro continuate a vedere i nostri video comunque e mi raccomando per sapere come andrà a finire iscrivetevi al canale ci vediamo domani in un altru prossimo video iscrivetevi ciao in questo video i ragazzi stanno festeggiando ma non sanno che è arrivato il nuovo maestro buongiorno prima e ultimo comandi signora preside silenzio buongiorno signor buongiorno soldati buongiorno ultimo ok iniziamo la marcia siamo tutti dei soldati sempre a scuola preparati la mia classe quanto mi manca a ragazzi fai un passo di mentore della parata ragazzi prego benzo ah che è proccato aina al volo sapete Funghetti perchè stiamo facendo tutto questo casino perchè il maestro San Giovanni se ne è andato da scuola e qui l'ho ha perso il registro non lo trovo più lo doveva custodire lei ce l'avevo a casa ma adesso non lo trovo più questa cosa è gravissima adesso o la licenzio io o vado a dare immediatamente alle dimissioni do le dimissioni quindi il maestro non c'è quindi possiamo fare tutto quello che ci fanno a scuola è nostra uè 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 cominciamo bene qua ma che che è sta cacciata uè 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 no 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 basta 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 vedo di una cosa importante che cosa andiamo tutti a casa che non c'è il maestro vero dai andiamo a casa va bene d'accordo il professore oggi non c'è però vi devo presentare una nuova compagna di classe perciò state buoni state tranquilli che adesso la faccio entrare dai città un'altra ragazza vai un'altra ragazza ehi ragazzi lei è jasmine la vostra nuova compagna di classe mi raccomando accoglietela bene fatevi amicizia scusa ma una domanda ma come mai sei in classe nostra san giovanni anche te ti ha bocciato e ti vuole mettere in un'altra classe hai indovinato si anche a me san giovanni mi ha bocciato ma ha fatto cambiare classe san giovanni sempre lui allora siete dei nostri a me san giovanni funghetti per continuare a vedere il video iscrivetevi al canale e guardate il video fino alla fine perché ne succederanno di belle oggi fate chiasso fate chiasso i ragazzi stanno festeggiando ma non sanno che è arrivato il nuovo maestro con san giovanni potevano fare quello che volevano ma con il nuovo maestro questo non potrà più accadere buongiorno prima e ultimo comandi signora preside benvenuto prima e ultimo agli ordini lei è stato assunto per rimettere ordine in questa scuola cosa che il professor san giovanni non ha saputo fare ecco qui e ora andiamo la presento ai ragazzi signor si signora preside per me sarà una missione andiamo uno due nando che facciamo fino alla l'ora di città? giochiamo andiamo al mcdonald ragazzi oggi ci divertiremo da morire facciamo dei bei tic e tocche va bene? tic e tocche tic e tocche tic e tocche tic e tocche ci pensi lei tic e tocche 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 tic e decine tic e tocche tic e tocche classe tutti sono attenti adesso facciamo una prova e vediamo se avete capito questo era quello che ci voleva per questi animaletti adesso esco e voglio vedere se avete capito se avete recepito buongiorno signor scusi ma insomma sia calmo sono ragazzi in finale no mi sembra un po esagerata questa cosa questa autorità scusi ma lei chi è io io sono il bitello e chi gli ha dato il permesso di parlare e allora se lei è un bitello stia sono attenti più rigido io non ho fatto il militare vi lascio con il maestro primo ultimo ci pensi lei professore sarà fatto a proposito di ordine questa classe è un porcile avete 30 secondi per rimettere in ordine uno due veloci veloci ordine certo che si è capitata proprio un giorno sbagliato che sfortuna iniziamo a dare le regole durante la mia lezione allora ci dica le regole e che pensi che devo scrivere io tu che parli di vieni qui a scriverle ecco il pennarello dovevi stare zitta io l'avevo detto io non ho capito non c'è niente da dire ecco il pennarello grazie tu piccola soldata come ti chiami ma io non sono un soldato vabbè faccio una parte io mi chiamo e lei voi per me siete tutti i soldati tra poco in questo video siamo tutti dei soldati sempre a scuola preparati domani mattina alle 5 fuori dalla scuola si può sapere mi spiegate perché siamo qui alle 5 buongiorno soldati buongiorno ultimo ma lei chi è? chi so io iniziamo con la prima regola durante le mie ore non si va al bagno no cacca ho detto no bagno perché è scritto no cacca no pipì perché al bagno si fa quello scusi eh scusi ma è il primo ultimo soldato giù in fondo dimmi io veramente devo proprio andare in bagno mi sto sentendo male ti mando in bagno ma non per fare i bisogni per pulirlo ma come pulirlo prof dai devo andare in bagno urcente dai veniamoci incontro io pulisco però poi lo do in bagno scordatelo ti mando in bagno a pulirlo e fai presto 10 minuti un quarto d'ora sto rilassando un minuto vabbè troppo cattivo sto prof ma gli ce l'ha mandato sta scuola allora riepilogo per tutti no cacca pipì no telefono non si mangia regola numero 4 non si va nella foresta nella foresta ma quale foresta? da qua siamo a scuola domani mattina svegli alle 5 si va a correre alle 5 a correre ma io alle 5 sto nel mondo dei sogni ma poi alle 5 è ancora buio hai paura del buio? e adesso la regola più importante non si accarezzano i leoni chiaro? i leoni? perché ci porta lo gioco e non dobbiamo accarezzare i leoni andiamolo già maestro? non mi chiamate maestro io sono il vostro generale e domani mattina svegli alle 5 allora lei è il generale ultimo sono il generale primo ultimo primo di nome e ultimo di cognome allora lei è il parente di ultimo e il cantante no vabbè non ci credo dopo San Giovanni ora c'è anche ultimo il cantante ah raga avete detto ultimo? pronti? vai fa male libero adesso ma non so più capesendo siamo soltanto bagagli viaggiano in ordine spazio basta non si canta durante le mie ore ma mica c'è scritto gli scusi ce lo aggiungiamo ma non c'entra tra poco in questo video ogni mattina faremo così ci ritroveremo alle 5 e marceremo siamo tutti dei soldati sempre a scuola preparati siamo tutti dei bei con i miei la mia classe quanto mi manca quanto vorrei tornare si studia e si fatica continuate a scrivere il dettato non ce lo faccio più a scrivere un'ora che stiamo scrivendo funghetti questo è il maestro peggiore che esista qual è la vostra materia che odiate di più? scrivetela nei commenti silenzio scrivetela nei commenti Nando la pacchia è finita in questa scuola il maestro ultimo era proprio quello che ci voleva signora preside mi sembra un po' esagerato sono contento per lei che la scuola ha ripreso bene però mi pare un po' esagerato questo sistema militaresco così anche ragazzi di 13 anni per me è sbagliato però lei è la preside Nando lei la deve smettere di difendere i ragazzi è solo un vitello ora andiamo a verificare parla 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 andiamo a verificare per finire prego continuate a scrivere in marcia per la vita vede Nando è tornato l'ordine e il rigore in questa classe complimenti però mi sembra sempre di stare entrando eh Nando sembra a commentare ecco qua basta silenzio Nando silenzio silenzio va bene speriamo perfetto così complimenti professor ultimo vedo che questi ragazzi veramente seguono quello che lei mi sta dicendo preside sto svolgendo la mia missione nel miglior modo possibile perfetto veramente la ringrazio perché era quello che ci voleva in questa classe veramente grazie ragazzi voi tutto a posto? si dai va bene benissimo allora professore qual è il programma per questa fantastica classe? allora come prima cosa ci siamo dati delle regole bene le regole proprio quelle che mancavano vede Nando? si eeeh eeeh e ora stiamo lavorando sull'inno della classe ah addirittura l'inno della classe ha capito Nando? bene bene l'inno della classe quindi ora canteranno l'inno della classe e buona notte ora si mettono pure a cantare andamo bene attenti potete cantare l'inno della classe siamo tutti dei soldati sempre a scuola preparati qui si studia e si lavora dalla prima all'ultima ora signora presidente riposo riposo professore volevo farle i miei complimenti finalmente vedo una classe con un regime veramente pazzesco allora ragazzi la campanella ci vediamo domani mattina alle 8 ok come ci siamo già detti prima domani mattina alle 5 fuori dalla scuola alle 5 ma ne gli porta questi a lavorare ma ne gli porta ma professore domani mattina alle 5 è ancora buio ma ha paura per caso? no 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 perfetto va benissimo ragazzi domani mattina alle 5 fuori dalla scuola io ho paura andiamo a casa ho troppo sonno ti prego no 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 io una nota e essere bocciata non la voglio ma che ti frega oh però camminiamo che io ho paura ma dove stiamo? ma dove ci ha fatto venire questo? ricordo ricordo si può sapere mi spiegate perché siamo qui alle 5 è arrivato un nuovo maestro un maestro primo ultimo sai che vi dico? sono le 5 io vado a dormire fa pure freddo è un problema a posto se voi non facevate licenziare San Giovanni probabilmente adesso non vi sareste ritrovati in queste condizioni a stare alle 5 di mattina qui con un nuovo maestro poi parliamoci chiaro questo maestro ancora non è arrivato secondo me se voi venite a casa zitti zitti non se ne accorge nessuno anzi andiamocene tanto il maestro qui non c'è buongiorno soldati buongiorno ultimo ma lei chi è? chi so io? che ne so? è il mio padre sono il papà di Ilari è il mio padre salve piacere vabbè io vado vedo che il nuovo maestro è veramente allegro è simpaticissimo e complimenti la mano niente la mano non me la dà rimane così vabbè vabbè ragazzi arrivederci mi raccomando ultimo cantante vabbè quello chi è arrivederci arrivederci Nando Nando che fai qua ai 5 di mattina pure tu come sei tutto ma che sei tutto a voi guarda quello è matto mi hai detto a Nando quello è matto è un problema vostro eh Nando buona fortuna buona notte si ragazzi vabbè ma Nando io vado a casa metto a dormire pensaci tu ok? va bene ok ciao Nando ciao 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 ogni mattina faremo così ci ritroveremo alle 5 e marceremo un vero soldato non ha mai freddo ma adesso una domanda poi nel sabato e la domenica ci dobbiamo svegliare presto nooo no la domenica non ci alzeremo alle 5 ah vabbè 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 la domenica alle 4 questo ragazzi questo è una cosa ma Nando rivolgerà no no rivolgerà tranquilli lo fanno rivolgerà siete pronti? ok iniziamo la marcia marchi siamo tutti i soldati sempre a scuola preparati Nando anche lei ma che te stai mettere l'ultimo io sono l'ultimo video perciò io sto bene così guarda siamo tutti dei soldati sempre a scuola preparati siamo tutti dei bei con i diiii Ilari questo è un pazzo dobbiamo trovare un modo per cacciarlo si poi alle 5 ci siamo svegliati alle 5 c'è tutta la nebbia funghetti era meglio San Giovanni no ragazzi dobbiamo trovare un modo per far tornare San Giovanni funghetti secondo voi che cosa possiamo fare per far tornare San Giovanni? funghetti iscriviti al canale per aiutarci a far tornare San Giovanni ho un'idea vieni nulla facenti tornate subito in riga vai siamo tutti dei soldati aiutateci iscrivetevi al canale siamo tutti dei soldati siamo la mia classe quanto mi manca quanto vorrei tornare guarda come so ridotto in questo video non andate non andate via cosa dicono? non vogliono andare a scuola io andrò a fare la spia e lo dirò a Papa Stefano così verranno messi in punizione oh 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 buono eh sta buonino l'infermo immobile aiuto mamma mia oggi neanche mi vado ad andare a scuola spero almeno si affronti no ecco fammelo bene questa cosa Nicola dobbiamo andare a scuola no sto freddo qui la potate io devo ancora trucare ci sta Alessio fuori casa che ci sta aspettando no questa pensa sulle trucche stiamo andando a scuola stiamo andando a scuola stiamo andando a fare una spilata di moda eh io mi mancano 5 minuti devi sbrigare possibile che ogni mattina che doveva andare a scuola c'è questo casino qua dentro e allora Nicola c'è quel rimbambito del tuo ragazzo che sta qui fuori a suonare da 2 ore io dico ma perché non va direttamente a scuola invece di andare a casa nostra a rompere il scatole alle 7.45 di mattina e poi sbrigati Ilari tu invece ma chi è Stefano questo che vorrà a quest'ora ma che è matto sono le 7 di mattina e poi mi stacco io ma chi è che si è attaccato dal C2 ma adesso ma ti vuole questo al modo di attaccarti alla porta di casa mia ma non rispondevamo dal C2 ma che non rispondevamo dal C2 ma non rispondevamo dal C2 ma non rispondevamo dal C2 ma guarda Ilari Nicola andate via per favore andate via ma andate via andate via a scuola stai calmo ma pure vai andate a scuola e non tornate più che io ho da fare questa mattina ogni mattina la stessa storia per andare a scuola queste due ore quella che si deve truccare quella di andare al bagno e non capiscono che io la mattina non posso perdere tempo perché ho da fare cose molto importanti tipo tipo ecco qua tipo giocare alla playstation quant'è che non giocavo alla playstation forse ragazzi si ha appesso una campanella su bella ciao Nando sono arrivata un po' prima perché oggi abbiamo un compito di italiano che c'avete la verifica di italiano? ma è tosta eh mamma mia senti tipo ma chi ve le controlla? Nando la verifica ce la controlla la preside la preside? mamma mia non proprio Nando senti fai una cosa sbrigati entrati passate tu eh certo devo sbrigarmi perché non so niente Nando ah questo è guaglio eh vabbè vado vado vai bella vai allora forse che è tardi entriamo entriamo su che sta suonando la campanella datemi ci dobbiamo fare forse andiamo andiamo oggi che cosa c'era da fare a scuola? oggi non c'era niente ciao Nando ma ancora qui state? ma ancora qui state? ma se hai già suonato la campanella? dai sono andato a casa di nidol ma tanto non ci sono i professori il problema non c'è io ho ci sono andato 20 volte lei non rispondiva ma aspetta oggi non ci sono i professori no andate che giornata ti aspetta oggi Nando perché dici così che hai saputo qualcosa? ricordatevi che Nando sa sempre tutto ma regà correte che ci sta la verifica Ilari Nicole venite cosa? chi ne ha dato questa verifica? la preside la preside? ma non è la nostra maestra neanche i zaini ci sono portati ce le corregge lei le verifiche regà non l'avete capito? ma io non c'ho neanche una penna una matita una gomma neanche io io una cosa me la sono portata è molto importante ah meno male Ilari che ci sei portato? lo zaino mi auguro no la merenda il pranzo e la cena no regà tocciamo andiamo via che ci inventiamo? non possiamo fare la verifica ok ma che ci inventiamo ragazzi? eeeh che la scuola era chiusa idea ci possiamo inventare che la scuola c'erano i topi ci hanno mandato via manda andate eeeh Nando ci ripregge il gioco noi non sappiamo nulla di italiano della verifica che oggi ha programmato la preside ci apri tu? no no mi dispiace dai Nando ti prego non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla mi hanno visto tutti qua mi hanno visto tutti qua io vi ho visto buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno Nando buongiorno siete pronti per la verifica ragazzi? si 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 andiamo allora la scorsa di settimana mi sono preparato allora vi aspetto in classe ragazzi eh si si breve signore si entra alla scuola mi manca moltissimo chissà semmai tornerò un gioco ma che stanno facendo là? ma quella è Nicole Alessio Sara Ilari colpitello Nando o fammi vedere che cosa stanno facendo cosa confabulano fammi nascondere qui non mi vedranno di certo allora l'hai visto? mi ha visto anche la preside mi hanno visto tutti i ragazzi io sto qui e bubbista tutti non mi mettete in mezzo ai guai per carità per favore Nando coprici il gioco noi non sappiamo niente della verifica di italiano noi andiamo a casa e diciamo ai nostri genitori che c'erano i topi dentro la grassa e quindi ci hanno mandato via per me è dura questa volta ma si no per me è dura cosa dicono? non vogliono andare a scuola salteranno la scuola ecco perché stanno lì insieme con quel babbeo di Nando hm 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 Nando mi dire ci andiamo eh non andate via non andate via mi rovinate non andate via non c'è niente da fare vi prego tornate qui non vi rovinate tornate qui Nando eh ho visto tutto ho visto i ragazzi che se ne andavano via e non sono entrati a scuola e a te che te frega a me che interessa che io adesso glielo dico alla preside e ti faccio licenziare caro Nando ecco tu sei arrivato sono arrivato a seguitare a fare la scuola bravo bravo mi stai vendendo mi sto vendendo ma ma tu nella scuola non rientrerai più ti assicuro che io rientrerò e adesso lo vado a dire a papà Stefano e lo dico anche alla preside e tu sarai licenziato Nando è licenziato ecco che dico ecco che dico queste cose qua io andrò a fare la spia e lo dirò a papà Stefano che i ragazzi hanno saltato la scuola così verranno messi in punizione e io San Giovanni avrò la mia vendetta tra poco in questo video ragazzi cosa succede? chi è che si è sentito male? benetta portaci al mech praticamente non sono andata a scuola perchè non volevano fare il compito ho sentito questo ragazzi l'ho portato qua però mi raccomando non mi fate passare nessun guaio cioè si 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 faccio la spia perchè loro non sono andati a scuola per tutto quello che mi hanno fatto mmm si funghetti perchè io ero il maestro San Giovanni ed ero il maestro di ilary e Nicole e mi hanno fatto cacciare via da scuola ed è per questo che io faccio la spia e lo dico a papà Stefano che loro oggi non sono andati a scuola mmm secondo voi funghetti ha un buono sta buonino li fermo immobile allora ci serve qualcuno con la macchina con la patente che ci prende e ci porta lontano da qua e chi? è Stefano chi? chi? meraventa è fermita è fermita chiamatela è ex ragazza di eh funghetti noi stiamo facendo una cosa molto pericolosa quindi voi a casa non lo fate non saltate mai la scuola in fondo lo sto facendo perchè stiamo facendo un video comunque aiuto quando arrivo ho fame non mi ha chiamato un quarto allora e Следa benedetta bene Ho sentito qualcosa Ho sentito qualcosa Ma chi è? Dettoro 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 Ma che ladri? Ma non mi riconosci? Chi sono io? San Giovanni Eh, San Giovanni sì Ma che sembra questo il modo dell'elettrocata? Ma non puoi suonare il campanello Mi sono... Campanello! Eh, mi dica, mi dica Ti devo dire una cosa importante, mi mette paura quando fa così, Gianni Ma perché non ci tiriamo su? Giusto, giusto Giusto Mi dica Allora, Stefano La cosa importante è che io stamattina ho visto davanti scuola Ilari, sia Nicole Che non sono entrate Praticamente non sono andate a scuola perché non volevano fare il compito Ho sentito questo e sono scappate via Aspetta, aspetta, aspetta Cioè, quindi Ilari e Nicole non andate... No, è impossibile, Ilari sono uscite questa mattina Stefano! Lei è un passo Andiamo insieme, Stefano Io, lei ti most... Vabbè, stia cambiando che gli prendo un colpo Andiamo a vedere fuori a scuola Andiamo a vedere fuori a scuola Ma le dico una cosa, Gianni Io vado fuori a scuola Se i ragazzi sono in classe, lei questa me la pagherò cara, ok? Io la pagherò cara Ma lei verificherà e vedrà con i suoi occhi Quello che stanno facendo Qualora fosse vero, le metto in punizione Ok? Giusto Tra poco, in questo video Gianni! Tira, 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 tira E cosa fate? Davvero, vado, vado Buongiorno Che bel vestito, oggi, guarda Eh, preside, faccia qualcosa Anche lei, guardi che sta succedendo Un disastro Guarda, proprio lei Eh, sì Io ho una classe degli animaletti Ragazzi, ma posso sapere cosa è successo? Io stavo andando al lavoro Eh, ma non è che... Hai una tipica? Mi sono andato allo scuola No, perché... No, perché c'erano i topi in classe Sì, sì Ilari, dai, dillo che vuoi stare a scuola Perché non ci porti al McDonald's? Dai, 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 dai Dai, 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 dai Dai, 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 dai Portaci al Mac Portaci, portaci, portaci al Mac Ragazzi, sapete che se i vostri genitori vi beccano un macello, poi? Ma no, tranquilli, da già stanno tutto Ma no, basta, dai, sopprita E tranquilla, dai, basta che... E anche se fossi ci sono tutti Andiamo a mangiarci stefanini che c'ho fame McDonald's, McDonald's Forza, venga con me Un attimo, stiamo camminando da due ore, ho capito, ho capito Buono questo, è il cammino Io ho già finito tutto Non so voi Ragazzi, vi ho portato qua Però mi raccomando, eh, non mi fate passare nessun guaio Cioè, perché qua se lo viene a scoprire qualcuno Va tranquilla, benedetta Nistuno lo scoprirà Vai È stata una giornata perfetta Perfetto Te l'avevo detto che non erano andati a scuola Lei mi deve mettere in punizione Rigorosa punizione Non ci credo Ma, erano usciti per andare a scuola Maestro San Giovanni Questa volta ha veramente ragione Li metto in punizione Questa è l'ultima volta Ma facciamo una cosa Aspettiamo qui dietro che escono Così loro penseranno che finiranno il mecco con calma E poi, secondo loro, torneranno davanti a scuola Per così io proprio li vado a prendere E loro faranno finta in niente E invece no San Giovanni questa volta ha avuto veramente ragione Nascondiamoceli dietro Ragazzi, dobbiamo sbrigare Perché adesso è l'ora di cui escono di scuola Sì, così andiamo fuori a scuola Così almeno può credere che ci siamo andati, no? Ragazzi, mi raccomando, fuori scuola Facciamo finta come se non fosse successo nulla Come se fossimo entrati, va bene? Andiamo 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 Ma, ma, ma abbiamo fregati tutti Siamo andati perché l'ora della scuola Noi ci sono andati di snack Giornata perfetta A scuola non ci siamo andati Siamo andati a mangiare Dai, però sbrigiamoci Ora qua è stato unito a scuola Vabbè, andiamo, andiamo Dai Dai, curi, curi, curi Ciao, becetta Dai, ragazzi, siamo arrivati giusto in tempo in tempo Che adesso escono gli altri da scuola Adesso arriva Stefano E faremo finta di essere usciti da scuola Ragazzi, mi raccomando Se ci chiederanno come è andata la verifica È andata benissimo Ciao Oh, così è Nando Bella giornata, Nando Precisi, precisi In tutti i modi Fra poco escono gli ragazzi Nando, preoccupaci, ti prego Ma la prestiti non si è accorta di niente Adesso fate quello che vi dico Lascia stelle prestiti Vabbè Voi, ragazzi, infilatevi in mezzo Camuffatevi lì in mezzo Fate vinta di niente E andate Ok, dai, Nando Dai, tra poco con Stefano Vabbè, mi raccomando Dai, andiamo Vabbè, non preoccupare Tranquillo Gioanni Scappola, scappola Scappola E cosa fate? La prese Buongiorno Che bel vestito ha Guarda Che bello Ci prese Ciao Stavani Stefano La prese Stavani Stavano La prese Ragazzi Ander Lasciuta Stavani La Stefano La prese Perché non andavo nella parte di Nando Scusate Ander 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 Aiutaci Nando Guarda Stavanti La Nando Tranquili Oh Sì Fermo Dov'hai? Vieni poi Io non voglio dire niente Questa volta Voi a me mi farete Cioè Voi me ne rendete conto Io mi avevo mandato a scuola E voi avete saltato la scuola Questa è una cosa gravissima Anche voi a casa Non lo fate mai Cioè ma vi rendete conto Hillary Tu sei in punizione Ti tolgo tutti i giochi Tutti i trucchi Ti tolgo tutto E faccio chiudere anche il canale YouTube Perché questa volta l'hai fatta grossa Vattene in punizione Aspetta lì Perché adesso Forza Non rimango qua No tu Mi rimango qua Nicole Specialmente da te Non me l'aspettavo Adesso tu Sei in punizione E adesso Io devo ringraziare il maestro San Giovanni Che è venuto a casa Questo Riprendete la scuola Preside Riprendete San Giovanni A scuola perché è stato un eroe Perché ha visto che loro avevano saltato la scuola Bravissimo San Giovanni Bravo Capito Grazie 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 Eh no caro Stefano Mi permetta No perché qui c'è qualcuno Che ha fatto la spia Una grande spia Io già so chi è E no Nando Perché qui San Giovanni È vero che ha fatto la spia Però io almeno ho scoperto Grazie a lui Che loro hanno saltato la scuola E questa Sì perché lui ha fatto la spia Non per salvare i ragazzi Ma per i suoi interessi Perché lui vuole rientrare in questa scuola Ma si è dato la staffa sui piedi Sto viaggio non lo salva nessuno Chi fa la spia non è il figlio di Maria No 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 lui Lui è il Nando Ed è un vitello corrotto Lei è un vitello corrotto Lui si fa a corrompere Corrotto io Sì lei è corrotto Lei è corrotto No no lei è corrotto Chi l'ha rotto L'ha rotto lui Chi l'ha rotto loro Chi l'ha rotto loro Qui si stanno a litigare Ma che ci prego a noi Allora andiamo Eh preside faccia qualcosa anche lei Guardi che sta succedendo un disastro Parla proprio lei Eh sì Io ho una grazia agli animaletti Funghetti mi raccomando Per vedere gli altri video Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like Noi intanto scappiamo Prima che ci beccano Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Mi raccomando